Qual è la nostra iniziativa? Che ci ha detto perché ha già messo tanta carne al fuoco che poi verrà ripresa nel proseguo dei nostri lavori. Io vorrei solo aggiungere, prima di lasciare agli oratori la collega Manuela Brusoni e poi alla tavola rotonda di approfondire i temi, spiegare perché ASFOR realizza questa iniziativa. L'abbiamo chiamata Quality Service, questo è un termine nuovo, nel passato lo chiamavamo Benchmarking Club dei Master Accreditati ASFOR. Quindi l'associazione ha sempre avuto presente come il tema dell'accreditamento, il tema degli associati che realizzano corsi Master fosse un tema importante. Quindi ASFOR oggi nel pubblico più giovane è conosciuto proprio per il sistema di accreditamento dei Master che realizziamo da 25 anni. Quindi siamo una delle prime associazioni in Europa che ha pensato di creare un sistema di valutazione dei percorsi definendo standard di qualità e tutto quello che voi già sapete. Ora, proprio per fornire un servizio migliore alle scuole che hanno Master accreditati, noi anche nel passato, ma ancora di più nel prossimo futuro, riteniamo di utile organizzare questi incontri per analizzare e approfondire alcuni temi caldi. E anche per un confronto sulle best practices, perché in effetti si impara molto dalle esperienze degli altri, confrontandosi, vedendo quali possono essere alcuni problemi comuni, altri possono essere diversi. Questi incontri hanno proprio l'obiettivo di cercare, diciamo così, di capire meglio, di imparare anche in un confronto fra soci, fra responsabili che si occupano di questo tipo di offerta formativa. Abbiamo scelto il tema del placement, è un tema molto caldo. Allora, ecco io vorrei certamente segnalare come è un tema che ha particolarmente significatività in un paese come il nostro dove le opportunità di inserimento per i giovani sono sempre state piuttosto limitate. Abbiamo un mercato del lavoro piuttosto ingessato, ma dove negli ultimi anni il tema è diventato addirittura drammatico. E quindi ricordo che noi fra gli standard di qualità per ottenere l'accreditamento abbiamo da lungo tempo inserito anche un parametro che riguardava il placement. Per cui l'80% dei diplomati entro sei mesi doveva aver trovato una collocazione nel mondo del lavoro. Questo è un tema che non si riscontra in altri sistemi, perché è tipicamente italiano per certi aspetti. Ma c'è una ragione. Negli anni 90, con l'avvio dei fondi strutturali europei, c'è stata una enorme proliferazione di corsi chiamati master, dove ovviamente pagati dai fondi europei, tramite le regioni o direttamente, dove spesso il contratto fra l'ente che realizzava il corso ai partecipanti era del tipo a te non costa niente, in più anzi ti do un contributo, quindi non chiedere che sia anche di qualità o che non pretendere troppo. E quindi anche per distinguere i master seri da quelli meno seri abbiamo introdotto questa norma che ha avuto forse la più grande attenzione da parte degli utenti. E qui vengo anche alle cose che ci diceva Rossella Cappetto, che io idealmente condivido totalmente. Ho sempre detto che una scuola non è un'agenzia di collocamento, però la realtà della Bocconi è diversa dalla realtà delle altre scuole che in qualche modo o di molte altre scuole che fanno parte dei soci Asfo, perché chiaramente avendo un brand molto forte, avendo una capacità anche di operare veramente a livello globale, rende questo aspetto cosa che hanno le scuole del nord Europa, che hanno sempre avuto, per cui per loro non c'era bisogno di dire obblighiamo, perché era naturale, uno che aveva seguito un corso di master di qualità, era evidente che non aveva problemi di trovare lavoro. Anche negli Stati Uniti succedeva questo normalmente, salvo casi. Quindi non c'era neanche bisogno di verificarlo, era un dato oggettivo. Per molti dei nostri associati, delle nostre scuole, magari quelle che operano in contesti più svantaggiati, mi riferisco al nostro mezzogiorno, il tema del lavoro e quindi dell'opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, è un tema tremendamente importante. E quindi l'investimento finanziario di tempo in un master era necessariamente un fattore determinante per la scelta di quel percorso. Questo poneva e pone in molti casi alle scuole un'obbligazione impropria, nel senso che sì, io sono venuto qui, ho investito risorse della famiglia, magari poche, famiglia che già non naviga nell'oro e quindi mi aspetto che l'obiettivo sia il valore, l'apprendimento, tutto bello, però alla fine mi dovete mettere nelle condizioni affinché io abbia dieci colloqui e almeno uno di quelli vada a buon fine. E questa è spesso la realtà di molte scuole che ovviamente non hanno la fortuna di operare in un contesto molto dinamico, molto evoluto e di avere un forte brand che è un elemento di un veicolo importante per raggiungimento dell'obiettivo. Questa è la ragione per cui abbiamo deciso di ragionare su questo tema. Io veramente ringrazio la collega Cappetto per aver evidenziato il loro punto di vista che è molto importante come riferimento, anche come una best practice. Poi vedremo se questo tipo di impostazione, che credo intellettualmente sia sicuramente condivisibile, è praticabile anche in altre realtà dove le condizioni possono essere diverse. Questo è l'obiettivo. Inoltre abbiamo scelto il placement anche perché dopo anni anorum di annunci più o meno velleitari, in quest'anno c'è una oggettiva novità normativa. Cioè abbiamo voluto capire se il Job Act, quello che è stato approvato dal nostro Parlamento, rappresenta un elemento positivo, neutrale, negativo rispetto ai processi di inserimento dei diplomati, dei corsi master nel mondo del lavoro. E quindi abbiamo chiamato anche delle persone che su questi temi ci lavorano e quindi vorremmo sentire il loro punto di vista. Bene, quindi queste sono le ragioni per le quali noi abbiamo organizzato questo incontro. A me, prima di cedere il microfono alla professoressa Brusoni, Vorrei ringraziarla, la professoressa Brusoni è il presidente della commissione di accreditamento che svolge Asfor, che svolge un lavoro estremamente delicato, importante nel valutare diciamo le caratteristiche dei prodotti. Abbiamo cercato di allinearci sempre con gli standard anche a livello internazionale, salvo proprio questo problema dell'80% che in altre realtà non ce lo danno per scontato e vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare la PricewaterhouseCoopers che da 20 e passa anni ci assiste in questo delicato compito di valutazione anche degli aspetti di sostenibilità economica e finanziaria perché chiaramente il processo didattico è sicuramente fondamentale, la qualità del percorso ma anche la sostenibilità economica e finanziaria di quel master e della scuola che lo realizza ci interessa perché ovviamente fa parte anche questo di un elemento per poter accreditare quel prodotto. tra l'altro nella nostra giornata della formazione manageriale di giugno attribuiremo un riconoscimento ideale alla PricewaterhouseCoopers per questa collaborazione preziosa che ci ha dato. Bene, questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e passo alla professoressa Brusoni il compito di relazionarci su quello che emerge dalla nostra ricerca. Grazie. 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 Grazie.